Buongiorno a tutti ragazzi, Pagelle, Napoli, Juventus. Napoli 2, Juventus 1. Sconfitta di ieri sera al Maradona, partita un po' strana, soprattutto per come me l'aspettavo, ma arriveremo a discutere anche di questo all'interno di questo contenuto. Come al solito vi chiedo un mi piace, un'iscrizione, un commento. Se arriviamo a 250.000 iscrizioni entro il 14 di maggio, il giorno in cui faremo e festeggeremo 10 anni di questo canale YouTube, sarà qualcosa di meraviglioso. Siamo lontani, però il sogno io lo voglio cullare. Vi ringrazio come sempre per il supporto. Questa mattina alle 7 vi ho portato un contenuto in cui andavo ad analizzare quelle che erano state le parole dei vari protagonisti e non solo, e non solo, e da qui il nome campagna elettorale del titolo del video, del post partita di Napoli-Juve, tra cui le parole di Allegri e le parole di Vlaovic, che sono molto molto importanti le parole di Vlaovic. Ragazzi, trovate tutto qui sopra nelle schede e non perdetevi anche questo contenuto. Novità, novità. Da oggi in avanti io il voto di Allegri non lo darò più. Perché? Perché tante volte la gente arriva, apre il video, va a vedere il numerino che c'è di fianco al voto di Allegri e di conseguenza va a costruire quello che secondo loro è il mio pensiero. Non va a pesare le cose positive e negative che avvengono. Va solamente a ragionare per preconcetti. E dato che è diventato impossibile, è diventato impossibile parlare di Allegri assegnandogli una valutazione, perché è diventata una roba troppo polarizzante, io il voto non ve lo metto più. Vi dico semplicemente le cose che mi sono piaciute e quelle che non mi sono piaciute. Ok? Così evitiamo tutta questa discussione extra che si viene a creare. Parliamo semplicemente delle cose belle e delle cose brutte. Il voto è una cosa in più. Da qui alla fine della stagione sarà così. Il voto di Allegri non lo troverete più. Ok? Così ascoltiamo e cerchiamo di farci un'idea. La Juve è molto meglio di quanto potevo aspettarmi ieri sera. Decisamente molto meglio. Io ero convinto di andare a Napoli a subire una brutta imbarcata. Per il momento psicologico della squadra, per il momento che si è venuto a creare tra dichiarazioni, microfoni e cazzi vari, per le assenze di Rabiot e di McKennie. E soprattutto perché non era sembrato Allegri essere proprio preparatissimo su quello che poteva essere il Napoli di Calzona. Vi dico la verità. La preparata stile Juventus Lazio. Non esattamente uguale. Perché in quell'occasione, quando giochi contro Sarri, vai tanto ad allargare gli esterni. Però quella volontà di tornare al pressing alto, quella volontà di cercare di verticalizzare tanto, è una cosa che avevamo visto appunto all'inizio della stagione. Infatti a me dispiace che la Juve abbia abbandonato un po' quella roba lì. Dopo la sconfitta di Reggio Emilia, dopo averne presi quattro alla Sassuola, l'abbiamo abbandonata. Io nel video di cui vi parlavo prima, quello che ho postato stamattina, concludo dicendo che oggi le grandi responsabilità sono dei giocatori in campo, più che dell'allenatore. Perché Allegri l'ha preparata, secondo me, con quello che aveva a disposizione bene. Ovvio che, ragazzi, questo bene va contestualizzato. È ovvio che arrivare al 3 di marzo, dopo tre anni, che sei la guida della Juventus e offrire quell'output lì, è troppo poco. Perché se la Juventus quest'anno a livello di prestazione ha fatto poco poco, diciamo che ha fatto un poco in meno ieri sera. Il Napoli non era irresistibile, e questo è un dato di fatto. Ma secondo me il Napoli non è stato irresistibile anche perché comunque la Juve ha cercato di fare una partita diversa. Che non significa che la Juve abbia giocato bene, perché nell'ultima ora sto continuando a leggere, eh, avete voluto il bel gioco, perdiamo, adesso vi lamentate. La Juve non è che ha giocato bene, ragazzi. Mettiamola da parte sta roba di preconcetti, giocare bene, vincere, questa contrapposizione. La Juventus è semplicemente creato più occasioni del solito. Sono concetti ben diversi. Però vi dico la verità, per quella che era la mia percezione della partita, io pensavo decisamente molto, molto peggio. La cosa che proprio non mi è piaciuta è stata la gestione dei cambi di Allegri. Dall'aspettare così tanto per inserire Ildis, alla gestione di Nonge, di cui ho già parlato ieri sera, non voglio tornare a soffermarmi perché queste sono le cose che penso. Ieri sera, parlando anche con Davo, mi ha detto io invece quella cosa lì l'ho capita per un discorso legato ai saltatori e in quel momento andava tolto lui. Inserire due giocatori come Milic e Danilo che possono darti quel qualcosa in più in area di rigore quando metti un cross. E da questo punto di vista io comprendo assolutamente la lettura. Però ragazzi, il discorso allora è la base. Allora non metti Nonge, perché tanto se deve fare 25 minuti li può fare anche Danilo, anche se ha davvero un allenamento nelle gambe. Nel momento in cui decidi, di scommettere, di mettere dentro un ragazzo che ha 20 minuti giocati con la Juventus, 30, non lo so quanti sono, accetti il fatto che ci possono essere dei rischi. E se lo togli dopo un errore che ha causato, procurato lui stesso dopo 14 minuti in una partita del genere, lo uccidi. Però ribadisco, io comprendo il discorso relativo a metto dei saltatori perché la Juventus questo è, butto la palla dentro e prego Gesù. Però la roba di Nonge a me non è piaciuta. Quindi voto da Allegri, datelo voi. Vi ho detto le cose che secondo me ha fatto bene e che secondo me ha fatto male. 6 e mezzo a Scesni. Sul gol, in diretta ho detto, cazzo, che brutta papera. Poi c'è quella deviazione di Cambiaso. Tiro imprendibile, secondo me si poteva comunque prendere. La deviazione di Cambiaso è decisamente decisiva, decisamente decisiva, perché va a metterla a fil di palo, però forse si poteva prendere. Ma Scesni poi si riscatta sul rigore. Anche Scesni si conferma un pararegori. Continua questa sua storia. Scesni ne para un botto. È inutile. Questo era il primo rigore che la Juve subiva contro, mi pare, in stagione, una roba del genere. E Scesni l'ha neutralizzato. Cioè ha una media che è impressionante. Quindi 6 e mezzo che poteva essere 7, perché secondo me comunque sul tiro di Gwara si poteva fare qualcosa di più, poi Gwara la tira forte. Cambiaso la devia, la mette a fil di palo e secondo me Cambiaso non ha neanche preso troppo bene le distanze su Gwara. Quindi 6 e mezzo, 7, vedete voi, secondo me la prestazione di Scesni è comunque super positiva. Rugani voto 6. Vi prego, non mettete in croce Rugani perché non ha fatto gol. È un errore? Sì. È una palla facile? Sì. Non è che si può domandare a Rugani di risolvere ogni singola partita tra Juventus al novantesimo su una mischia in aria. Perché Rugani fa una buona partita dal punto di vista difensivo. Per me fa una buona partita. Poi non è che Rugani è Cristiano Ronaldo. Rendiamoci conto di questa cosa. Non facciamo passare Rugani come a cazzo doveva fare gol e colpa sua se l'abbiamo persa. Dai eh, un po' di equilibrio nelle valutazioni. Voto 6 a Bremer. Allora, sono stato molto combattuto sul voto a Bremer. Alla fine dito 6 perché Cosimane comunque ha fatto una brutta partita. Molto nervoso anche con Bremer. Bremer se lo perde un'occasione, prende un cartellino giallo che secondo me è sacrosanto. I gialli di Bremer e Cambiaso per me sono giusti, quello di Vlaovic è una follia perché non esiste dire eh, gli hanno fatto tre falli, gli ha fatto il terzo a titolo giallo. Non esiste nel mondo. Tra l'altro Vlaovic è diffidato, salterà Juve-Atalanta e sarà un bel problema. Sarà un bel problema. Però, però, poi Bremer secondo me fa una prestazione tutto sommato buona. Sul gol, in presa diretta, forse anche ieri sera del post partita, non me lo ricordo. Continuavo a dire che Bremer sbagliava nel rinviare quella palla. Però, poi riguardandolo, Bremer butta la palla esterna. Cioè, la respinta il difensore la deve fare esterna. E Bremer fa questo. Poi secondo me Cambiaso non legge bene le distanze. E quindi marca male Kvara. Quindi secondo me alla fine Bremer sul gol tante colpe potrebbe anche non averle. Secondo me c'è grande responsabilità di Cambiaso. Quindi sono stato molto combattuto sul voto. Inizialmente avevo dato 5 e mezzo. Poi ho detto ma per quella che è stata la prestazione di Bremer contro Rosy Mann. Se lo merita 5 e mezzo? Probabilmente no. E quindi gli ho alzato di mezzo voto. Sono curioso di sapere la vostra in commenti. E adesso preparatevi perché io qua avevo molta paura. Invece insomma Alexandro di sera ha fatto una buonissima partita. Dei tre dietro per me il più propositivo. Anzi il più positivo. Il più positivo come prestazione. Ha salvato sulla linea quel boh tiro cross non ho capito di di Olivera. È stato bravo, solido. Ha fatto il suo. Quando è stato il momento si è messo anche a 4 come terzino di sinistra. Per me quella di Alexandro di era stata una prestazione positiva. E non ho niente da dirgli. Se non bravo, migliore dei tre dietro. 6 e mezzo. Ealing Junior. Voto 6. Io sono fortemente convinto che Ealing faccia molta fatica nella fase difensiva se deve difendere a 5. Perché lo ritengo un giocatore perfetto per il 4-3-3 o ancora più perfetto per il 4-2-3-1 o 4-4-2. Quindi devi mettere in conto che quando puoi schieriggere in quella posizione un po' più di fatica te la faccia dietro. Però ieri sarà un paio di spunti interessanti in avanti, secondo me. Questo giocatore qua, secondo me, continua ad avere del potenziale molto grezzo. Molto grezzo da tirar fuori. Però vi dico che mi sembra un giocatore estremamente umorale. Quindi non so se l'anno scorso era galvanizzato per la fiducia che gli si stava dando e quest'anno per la poca fiducia si sia un po' buttato giù durante la stagione. Se possa essere questo il problema o magari è un livello che io non ho ancora percepito e decifrato. Quindi voglio sapere anche un po' la vostra opinione. Però Ealing come ha fatto due o tre sgasate importanti lì sulla sinistra e non ha fatto tutto sommato una brutta prestazione. A maggior ragione dopo che veniva inserito da mille anni che non vedeva il campo dal primo minuto. Sei meno a Miretti. Anche qua ho voluto mettere meno e non sarà l'unico centrocampista col meno. Ma ve lo dico subito. Guardate. L'altro è Locatelli. Sei meno sia a Miretti e sei meno a Locatelli. Miretti ha fatto, secondo me, una partita anche abbastanza buona. Con dei buoni guizi, dei buoni spunti. Gli manca sempre quel centesimo per fare l'euro. Poi anche lui era stato messo in naftalina come Ealing Junior. Non lo vedevamo dall'anno del mai. Quindi diventa anche difficile pulsante on off. Diventa quasi impossibile. Così come la Juve non è che può fare per sei mesi delle prestazioni basate sul non prenderlo e poi vai a Napoli in emergenza e gli dici no vabbè adesso iniziamo a pressare alto. Non è on off. Le cose vanno preparate per forza di cose. Però ieri ho visto un Miretti fare delle cose fatte bene e poi fare anche delle cose fatte male. Il meno è perché ieri ho avuto la sensazione di non avere mai il centrocampo. Cioè il centrocampo del Napoli ci ha dominato Traoré, Anghissà, quando è entrato chi era? Zilinski. Cioè Lobotka stesso. Il centrocampo del Napoli palleggia. Il centrocampo della Juve mai. Quando finisci con il 29% di possesso palla ragazzi. Dato emblematico. 29% è poco. Poco. Per quello che ieri sera vi dicevo io vi devi migliorare tanto nella costruzione. E questo non può essere un on off. E questo non può essere solo. Eh ma i centrocampisti sono scarsi. Ma ragazzi ma Dio santo. Quello è principio, è abnegazione, è allenamento. Oh quella roba lì è allenamento. È miglioramento. E questo si traduce nel fatto che la Juventus rispetto all'anno scorso ha solo un punto in più. Cioè le ultime tre stagioni con Allegri. Quella con Pirlo ragazzi. È la stessa pasta scondita eh. È una bella pasta in bianco senza olio né sale. Anche magari fredda lasciata lì ad aspettare. Quindi un po' gommosa. Questi ultimi quattro anni. Che? Che? E sono convinto che se tornassimo a lavorare davvero seriamente su certe cose in maniera come si deve senza limitarci a eh ma sono fatti così eh che cosa puoi pretendere? Eh no. E non è che scende l'arcangelo Gabriele dal cielo e ti dice guarda sei incinta per miracolo. Non funziona così. I bambini non nascono così. È successo è successo ma i bambini non nascono così eh. Ci ha detto che è successo ma i bambini non nascono così. Quindi bisogna metterci mano eh. Emiretti secondo me le capacità anche di palleggio e di inserimento ce le ha pure. Meno perché nel complesso il centrocampo della Juve mi è sembrato poco. Quasi sgretolato rispetto a quello del Napoli. Locatelli eh anche qui un paio di palle interessanti no? Un paio di gestioni palle interessanti anche quella che dà cambiaso un corridoio una lettura meravigliosa. Eh tante altre in cui fa fatica. Fa fatica. E poi torniamo sempre lì ragazzi. Locatelli fa il mediano. Cioè anche parlare di Locatelli sta diventando difficile. Molto complicato. 5 e mezza da Alcaraz. Dei tre è quello che mi è piaciuto di meno. Molto impreciso. Alcaraz si vede che è uno che vuole andare subito in verticale. Si vede che è uno che vuole subito tirare. Vi dico sinceramente in queste cinque partite e quattro che è stato a disposizione quando ha giocato a centrocampo non mi ha convinto tantissimo. Quando ha giocato più avanti sì. Per me non è una mezzala. Può farlo? Sì. Però secondo me perde tanto del suo potenziale. Per me deve giocare qualche metro più avanti e centrale. Sarebbe un buonissimo trequartista. Vediamo. Per me questa è la lettura su Alcaraz. Cambiaso. Voto 5. Quanto ha sofferto Gwara-Scheia. Tantissimo. Tantissimo. Tant'è che si fa munire e dopo diventava anche un po' pericoloso. Sul gol di Gwara. Abbiamo già parlato. Per me se lo perde. Abbastanza. E poi c'è quel tiro nel finale che sbaglia pure. Voto 5. Non una prestazione da uno dei migliori giocatori della Juve di questa stagione. Però fateci caso quando poi Cambiaso non fa una buona partita. La Juve non porta a casi tre punti. Non è correlazione sulla prestazione della Juve ma sul risultato. Quando Cambiaso non fa una bella prestazione viene in mente anche la partita con l'Inter. Cambiaso deve crescere nei big match. Perché Napoli-Inter sono state due o tre partite quest'anno che nelle gare contro squadre più grosse è venuto meno Cambiaso. E qui deve migliorare. Deve essere il suo step di crescita. Voto 7. A quello lì che fa così. 7 come il suo numero di maglia. Quanto sono contento che Federico Chiesa sia tornato al gol. Quanto sono contento. Perché ieri ha giocato 90 minuti. Quindi mi ha dato un calcio nel culo quando dico che dal punto di vista fisico non era a posto. Benissimo. La prendo e la metto via. Federico Chiesa gioca 90 minuti. Fa gol. Fa un paio di assist anche interessanti. Quel cross che mette sulla testa di Vlaovic. Due volte che si allarga sulla destra. Quel cross. Chiesa si allarga sulla destra. Va a crossare. Il gol. Chiesa largo sulla destra. Tira a incrociare. Destra a sinistra. Chiesa può giocare indistintamente su tutte e due le fasce per quanto mi riguarda. Però deve avere quel riferimento di partire da lì. Deve essere a tutti gli effetti un esterno d'attacco. Oh 4 minuti eh. 4 minuti col 4-3-3 e Chiesa ha fatto gol. Coincidenza? Boh sì può essere. Però forse anche quella cosa di più. Perché non ripartiamo da qui? Vi scongiuro. Mancano 11 partite. 11-12 quelle che sono. Un contentino. Ma anche per cercare di dire cavolo magari la Coppa Italia passa anche dal fatto che dobbiamo comunque cercare di migliorare le prestazioni e ritornare le vittorie con dei risultati più convincenti. C'hai Weha. C'hai Ildis. C'hai Alcaraz. C'hai Iling Junior. Cioè ne sono dei giocatori che possano giocare come esterni nel 4-3-3 oltre a Chiesa eh. Ne hai. Allegri ha provato anche Cambiaso. Proprio nell'emergenza ha anche Cambiaso. Magari me ne sto anche dimenticando qualcuno. Per averli li hai. Dietro è difficile. però un po' di organizzazione e magari si riesce a fare. Tornato Federico Chiesa. La risposta più bella di Napoli-Juventus 2-1. In assoluto. E qui veniamo a Vlaovic. 4-3-5. Perché per me ieri sera Vlaovic ha delle grossissime responsabilità su quello che è il risultato. C'è poco da fare. Da qui non si scappa. Perché ha avuto tre occasioni. La quarta e il secondo tempo a incrociare non la considero. È troppo difficile. ma tre occasioni nel primo molto molto importanti. Però la cosa bella è che lui ti dice ho sbagliato. Il numero 9 della Juve deve fare gol. Devo migliorare. Non posso sbagliare certe robe. Perché ho messo in difficoltà la squadra. Perché se andiamo in vantaggio poi è una roba diversa. Quindi ti becchi 4-5. Perché è giusto. Ma ti becchi 10 dal punto di vista della comunicazione. 10. Perché quando uno mi dice lo so ho sbagliato e devo migliorare per arrivare dove voglio arrivare. Per me non sbaglia mai allora. L'importante è che poi ovviamente lavori per migliorare quelle robe lì. Ma quando vai a individuare gli errori e gli ammetti. A 24 anni. Sta iniziando a dimostrare una crescita mentale che prima facevo fatica ad attribuirgli. Quindi parole da leader. Ne abbiamo già parlato nel video di oggi. Prestazione horror. Però cerchiamo di non prendere questa roba qui e basta. Perché Vlaovic nelle ultime partite ha letteralmente trascinato la Juventus. Perché se vorrei la classifica oggi non siamo soddisfatti. Non potremmo esserlo. È giusto così. Anche Vlaovic ha detto arrivare terzi o quarti. No. D'accordo. L'Inter è scappata. Almeno arriviamo secondi. Provate a immaginare senza le prestazioni di Vlaovic delle ultime settimane. Vale. Weha 5 e mezzo. Entra per giocare a destra. Poi viene arretrato come terzino destro. Bum. Poo. Faccio sempre un po' fatica a capire Weha. Mi sembra sempre un po' timidino. Né carne né pesce. Ecco. Diciamo così. Questa è un po' la lettura che do a Weha. Bum. Poco. Poco. Poco per arrivare al 6. Ildis qualcosina in più sì. Due o tre volte è andato a prendere la palla. Però anche qui a 5 e mezzo a 6. Poco cambia. Che altro? Weha traslocato. Su. Giù. Da terzino. Bum. Weha. Non mi fa impastire. E Ildis è stato meno impattante di Chiesa invece nel tridente. Perché? Perché secondo me lui comunque ama partire da sinistra ma deve convergere al centro. E infatti una soluzione interessante potrebbe essere inserire dietro a Ildis un giocatore che vada a prendersi tutta la corsia di sinistra e vada in sovrapposizione. E in questo caso se ci pensiamo Kostic se migliora dal punto di vista difensivo andare a fare il terzino nel 4-3-3. Ildis che prende palla da sinistra e poi arriva al centro libera la sovrapposizione a Kostic che può ricevere e andare a crossare che è un po' la sua specialità. Conte se gli devi dare la palla e gli devi saltare e devi metterla. Conte se ci arriva di corsa e la crossa sicuramente quella cosa di meglio arriva. Quindi secondo me due o tre spunti interessanti ci possono pure essere. Nonge 4 e mezzo perché qui non è che si sta dicendo che Nonge non abbia sbagliato. Nonge fa una cazzata. Non trovo un altro modo di dirlo. Un'ingenuità che vogliamo. Dai un'ingenuità. vogliamo essere politicamente corretti. Un'ingenuità. Una cazzata va bene lo stesso. Non si sta negando sta roba qui. E il resto. Cioè se lo metti dentro poveraccio lo lasci. Questa è la mia lettura. Se lo metti dentro lo lasci. Perché poi allora la valutazione il voto a Nonge che volevo dare era poverino o mi dispiace qualcosa del genere. Poi ho detto vabbè facciamo i seri. Nonge fa una cosa che va a cambiare il risultato di Napoli e Juventus in negativo per la Juve. C'è poco da fare. Poi la Juve su rigore di Scesni lì andrebbe dato mezzo voto in meno a tutta la squadra tranne Scesni. Sulla reazione su Raspadori è imbarazzante. Ma di quello avevano già parlato ieri sera. Non voglio dire il tizio Caio Semprogno. Tutti tranne Scesni. Mezzo voto in meno. Quelli che erano in campo se lo dovevano becchiare. Perché non è francamente possibile arrivare con così tanto colpevole ritardo. Però Nonge poverino mi dispiace tanto. Se lo metti dentro accetti il fatto che possa sbagliare se poi lo togli. Sono cose che a me non piacciono. Non mi piacciono. Senza voto a Milik ha giocato 12 secondi tipo senza voto a Danilo. Ne ha giocati altri 12 perché poi il piano era palla in area e preghiamo Gesù ma non ha funzionato. Napoli 2 Juventus 1 Io direi che questo è tutto fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti credo di aver toccato più tematiche e poi inizieremo a parlare anche di qualcos'altro perché secondo me c'è un argomento legato alla classifica che è molto caldo e voglio raccontarvi quello che ne penso. Ciao